Napoli si sta facendo molto sul piano della repressione penale ma anche della prevenzione, soprattutto di quella giudiziaria con le misure di prevenzione e bisogna continuare su questa linea, naturalmente auspicando che vengono rafforzati gli organici sia delle forze di polizia che della magistratura e dell'apparato amministrativo della giustizia. Questo l'abbiamo chiesto e sollecitato nel corso dell'incontro in prefettura che avevamo il giorno 5 maggio scorso con i ministri della giustizia e dell'interno e abbiamo avuto assicurazioni che ciò avverrà nei tempi naturalmente possibili per la realizzazione di questo obiettivo.